Il fiolino Capuano, stanza 105, primo piano. Come sembra? Ok, ma anche. Allora, siamo amici di... Siamo cominciati a fare incontro, da una sprizzata alla gentilità. Benvenuto, grazie, in bocca al lupo. Grazie, da oggi in poi lei giocherà le due partite sulla terra, non più su Marte. Però comincerà a vincere dopo che vengo da ripetere. Ah, sicuramente. Mi fa piacere averti visto anche a me. Sono cose che succedono, magari ero giovane, adesso dopo tanti anni... Però ci siamo visti di accusa in un'altra occasione. Io ti scusi per la mia provocazione e tu per il tutto inquiloprio. Per il mio... Troppo sul fatto così, dopo una partita magari... C'è un pensiero per te, posso dartela? Grazie. Ok. No, tu oltre all'abbraccio, le faccio con grande piacere. Grazie. Anche a te. Disegno di amicizia ed educazione. Grazie. I valori fondamentali. Avrei portato anche io. Avrei portato io una cosa. No, non lo so. Va bene, mi ha fatto molto piacere. Hai fatto contento, no? Contentissimo, apprezzo. Ehm... Era un ragazzino. Ehm... Capitare, però mi ha fatto molto piacere. Sono veramente contento. Grazie. Vedi che ho messo anche io lo finito, eh? Grazie, grazie. Una cosa va bene perché non siete nevolati. Io sono in paizione. Non faccio più nei professori. Ah, sono commosso. No, perché... Io spero di continuare ancora per molti anni a fare questo messaggio di vita. E la vita ha certi valori. La vita è educazione, il calcio è... Abbiamo fatto una carriera, una cosa sulla dignità, su tante situazioni. A volte si può errare, a volte si può sbagliare. Un mestiere che... Dopogari... Ma tu sei buccanico, ragazzi. Come ha detto, non ho sempre ammattato. Io sono me stesso. E lo so, anche per te. Io ho messo 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 anche per te. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie, messer. Grazie. Mi ha fatto molto piacere. Ciao. Ciao! Grazie a tutti